Cari compratelli qui in Luria, e quello che ho da comunicare a voi, lo comunico a tutta la congregazione, a tutti i compratelli, ma anche a suori e ai daici che vivono in vicenza della nostra famiglia, ho due importanti comunicazioni da fare, più esattamente una dichiarazione e una nomina. La dichiarazione è dichiarata che di diritto il nuovo vicario generale è Don Achille Morazzo. Di diritto perché è secondo il nostro diritto, le nostre Costituzioni al numero 183 prevedono che a sostituire il vicario sia il secondo consigliere, dunque tocca a Don Achille Morazzo. L'altra nomina riguarda il nuovo consigliere della nostra congregazione per il tempo rimanente di questo sessegno. Nuovo consigliere generale della nostra congregazione, da oggi, 11 gennaio 2008, è il padre Tarsisio Vieta. Non è presente. Non è presente in mezzo a noi perché in questo momento si trova nella brevista vacanza con la sua famiglia in Brasile, ha accolto l'incarico e quindi entra in funzione, a lui saranno assegnati in particolare i compiti della pastorale missionaria e della pastorale parrocchiale, mentre Don Achille lascia la pastorale parrocchiale per assumere, assieme alla formazione iniziale, assumere la formazione permanente. l'augurio che il Signore benedica questi due compratelli nel nuovo incarico, benedica la nostra famiglia. aspetta. Amen 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 Salve Ora Come è questa casa da dire? A dire? A dire? Sì 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 È Sì 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 Grazie a tutti.